Cari concittadine, cari concittadini, il 21 maggio siamo chiamati a votare sulla nuova legge sull'energia. La legge ha tre obiettivi. Il primo è di ridurre il consumo di energia. Il secondo obiettivo è di produrre più energie rinnovabili e per finire la legge vieta di costruire nuove centrali nucleari. Per il primo obiettivo consumare meno energia. La legge rafforza gli incentivi a risparmiare energia negli edifici, negli apparecchi e nei trasporti. Chi ad esempio isola meglio la propria casa continuerà a ricevere aiuti finanziari. Senza la nuova legge, tra due anni i proprietari di immobili perderebbero questi aiuti. La nuova legge inoltre amplia le possibilità di dedurre dalle imposte i risanamenti edilizi. Per il secondo obiettivo promuovere le energie rinnovabili. Oggi chi produce elettricità ricavata da energia solare, eolica o da legno riceve un incentivo finanziario. Per migliorare la quota di queste energie rinnovabili è previsto un temporaneo aumento degli incentivi. In questo modo si sostengono anche le centrali idroelettriche esistenti. Il costo per un'economia domestica è di circa 40 franchi l'anno. Infine, per il terzo obiettivo abbandonare il nucleare. La nuova legge vieta di sostituire le centrali esistenti. In questo modo la Svizzera si ritira progressivamente dall'energia nucleare. Conviene anche in termini economici. Dopo Fukushima i requisiti di sicurezza sono aumentati di molto. Questo è costoso e in Svizzera nessuno è più disposto a investire in una nuova centrale nucleare. Care concittadine, cari cittadini, sicuro, pulito, svizzero, ecco come deve essere l'approvvigionamento energetico in Svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare sì alla legge sull'energia.